Prendete un giovane di soli 16 anni che durante il primo allenamento con la prima squadra si mette subito in mostra con un tunnel ad un big. Faticate a crederlo? Lui è Angio Josué Kibozo, attaccante della Juve Primavera, raccontato nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Passato dai grandi rivali, Kibozo nasce nel 2003 in Benin, ma solamente nel 2014 si trasferisce in Italia a Milano, dove viene ingaggiato dall'Inter. Due stagioni prima della fine del matrimonio con il club nerazzurro, che lo portano nel gennaio 2017 a vestire la casacca della Gianna Arminio. Questo il trampolino di lancio per il successivo passaggio alla Juventus. Schiaccia sassi con Leander. L'esterno approda alla Juventus a 14 anni e nel suo step di crescita viene inizialmente aggregato con l'Under 16. L'esordio in bianco-nero arriva nel dicembre 2018, nella trasferta contro lo Spezia, dove mette anche a segno la sua prima rete ufficiale. Gol su gol, come quelli che mette a segno nella stagione successiva in Under 17. Ben 15 in 17 apparizioni, con la squadra di Francesco Pedone. Demiral, ricordi? Il 27 novembre del 2019, Chibozzo viene aggregato per il suo primo allenamento in prima squadra. Se lo ricorda bene Mary Demiral, che durante un torrello di riscaldamento, subisce un tunnel da parte dell'allora attaccante della Juventus Under 17, suscitando una reazione di stupore da parte di tutti i compagni di squadra. Imparare dai big. Prima squadra sì, ma anche imparare dai super campioni. In un'intervista a Juventus News24.com del 4 giuno 2020, il suo agente, Matteo Gomez, ha rivelato. È sempre bello, per un ragazzo giovane come lui, poter imparare da Ronaldo, Di Bala, Bonucci e compagnia. È molto contento, ma consapevole, che la strada è ancora lunga per arrivare a certi livelli. Jolly d'attacco. La maturazione di Chibozzo lo porta, nel corso degli anni, a modificare anche il suo abito tattico. Nelle giovanili della Juventus viene schierato prevalentemente come esterno alto di sinistra, sterzando e andando a calciare con il destro. Il salto in primavera, invece, lo porta ad accentrare la sua posizione, con il tecnico Andrea Bonatti, che nel 2020-21 e 2021-22 lo utilizza anche come prima punta. Anji Josueki Bozzo. Velocità, dribbling ed esplosività. Diteci con un commento cosa ne pensate dell'esterno della Juve Primavera, iscrivetevi al canale e mettete mi piace alla nostra pagina Facebook. www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv